Musica Un cordiale saluto, buongiorno, benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa in versione natalizia chiaramente ancora per qualche giorno fino al 6 di gennaio tutte le materie ci siamo qui per le 7.30 in diretta per sfogliare i quotidiani che oggi tornano in edicola dopo la pausa natalizia e ci siamo anche noi, buon mercoledì a tutti allora partiamo subito dal tempo perché il tempo per oggi è un tempo con come vedete con delle perturbazioni in atto che arriveranno nella mattinata prevalentemente a ridosso dei rilievi poi dal pomeriggio è prevista una intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse nelle zone montane anche a carattere di rovescio sparse invece altrove il limite delle nevicate sarà attorno ai 1.400 oggi 1.500 metri ma in abbassamento fino ai 900 mille metri in serata le temperature sono in aumento nei valori minimi attenzione ai venti nelle zone interne per la giornata di domani domani giovedì 28 dicembre guardate è ancora più fredda e soprattutto c'è la neve la neve nella giornata di domani attorno ai 500 metri dalle ore centrali della giornata localmente anche a quote più basse dei 500 metri in occasione dei rovesci più intensi dunque attenzione a questi fenomeni che già dalla mattinata di domani inizieranno nelle zone interne intorno a mezzogiorno con precipitazioni che tenderanno a diventare sparse chiaramente saranno pioggia sulla costa ma come dicevamo pioggia mista neve anche nell'entroterra ci saranno ancora venti deboli dei quadranti meridionali tendenti a ruotare da nord nelle ore centrali quindi l'abbassamento delle temperature venti forti nord orientali in serata invece lungo la costa per il 29 di dicembre avremo ancora fenomeni residui a carattere nevoso al di sopra dei 500 metri nella giornata di venerdì poi il tempo migliorerà e come vedete insomma poi tornerà il sereno poco nuvoloso ma attenzione anche alle gelate durante le ore più fredde specie nel fondo valle e all'interno condizioni di tempo stabili invece per il fine settimana dunque dovremmo avere più o meno un ultimo dell'anno in piazza decente insomma senza particolari fenomeni se non il freddo ma questo ci sta allora cominciamo a vedere i giornali partiamo dal Corriere Adriatico non c'è stata la tregua neanche nel giorno di Natale perché i ladri sono entrati in azione la banda di ladri che ha rubato nelle slot machine ma non solo anche nei circoli nelle case sono state sventrate casseforti forzate slot machine rubati persino un arrosto e la beneficenza questa è la notizia che trovate sul Corriere Adriatico di questa mattina il Corriere Adriatico tra l'altro non lo dico ma spesso ma lo ricordo per quanto riguarda la versione nazionale c'ha il messaggero quindi se voi con un euro e venti andate in edicola vi danno anche il messaggero che è una testata storica importante allora fermata dicevo una banda delle slot machine l'incubo continua altri malviventi si sono entrati in azioni per scassinare le videolotteri e per levare i loro incassi ci sono anche segnalazioni di ragazzi pronti a scassinare le auto parcheggiate vicino ai centri commerciali è successo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre quando i gnoti hanno approfittato di una basculante lasciata socchiusa per introdursi facilmente al circolo Arci diamante di via Gagarin a Pesaro una volta dentro poi hanno forzato le cassette delle 6 slot machine presenti all'interno poi attenzione questa è la fotografia dove vedete i vigili la polizia locale di Pesaro che controlla guarda in alto sono sotto il colle dell'Ardizio per per vedere che cosa sta accadendo lassù perché si stacca un masso dal colle Ardizio si temeva che potesse piombare sull'Adriatica sotto ce l'ha stata le 16 la caduta invece è stata fermata per fortuna dalla vegetazione intervengono i rocciatori per la messa in sicurezza poi sempre in primo piano sulla pagina del Corriere Adriatico di questa mattina la cronaca muore la notte della vigilia di Natale sospetti sull'abuso di alcol è successo a Marotta una tragedia che si è consumata la notte della vigilia il 24 dicembre in un appartamento di Marotta dove è morto un giovane extracomunitario un nigeriano di 40 anni forse stroncato dall'abuso di alcol e questo è il sospetto dei carabinieri che hanno raccolto testimonianze e riscontri la certezza però si avrà solo con l'autopsia che è stata disposta dal pubblico ministero e poi i sindaci in rivolta le casette fanno schifo tenetevele stiamo parlando del flop della consegna delle consegne di queste casette per chi la casa non ce l'ha più poi lo sport WL fuori fase Cantù vince facile e chiude 92 a 73 le pagine interne andiamo sulla pagina di Fano subito del Corriere Adriatico arredi dei locali ultimatum per il sì definitivo stiamo parlando degli arredi dei locali esterni quelli su cui si discute in queste ultime settimane c'è questo regolamento che deve essere approvato la giunta prende tempo la Confcommercio annuncia invece un ricorso al Tar sotto presepe vivente a Torrette di Fano con pesce vin brulè tra gli allestimenti la novità dell'opera di Roberto Giovagnoli la città di Fano si può considerare sempre più come la città dei presepi data la bellezza e l'originalità di certe costruzioni che si possono considerare come delle vere opere d'arte oltre al presepio più bello che è quello di San Marco il presepio più bello delle Marche ebbene c'è anche quello del presepio realizzato da Roberto Giovagnoli in tre anni di lavoro che si trova in via Emilia 6 nel quartiere del Poderino che vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi alla Paolini c'è la notizia questa è l'ex caserma di Fano vedete c'è la notizia che a un certo punto è stata rilanciata dai social ma sapete che i social basta che uno scriva una cosa poi qualcuno la rilancia è facile che una notizia che non è una notizia diventi una notizia ma insomma è un po' così non è sui social bisogna stare attenti bisogna avere senso molto senso critico non si può bere tutto quello che viene propinato insomma i social vanno presi per quello che sono c'è una grande osteria telematica dove a seconda dei giorni a seconda di come tira il vento si può leggere di tutto e il contrario di tutto quindi fidatevi degli organi di informazione quelli certificati e date il peso che merita ai social network alla Paolini dicevo lavori per gli archivi impraticabile ospitare migranti perché impraticabile ospitare migranti perché a un certo punto qualcuno ha ipotizzato che siccome c'erano dei lavori all'interno eccetera eccetera vedete le transene nel cortile della Paolini qualcuno ha detto ah qui arriveranno i migranti e ha rilanciato questa stupidata su internet e poi tutti dietro a dare contro eccetera eccetera il cantiere come vedete è sul lato di via Bixio e quindi questa bufala questa fake news che è il dramma vero di questa di quest'epoca di questo decennio le fake news viaggiano alla velocità della luce ma basterebbe accendere un po' il cervello e le fake news avrebbero vita breve legami fanesi del movimento liberazione Italia anche l'avvocato Secchi di Malta nel gruppo che voleva arrestare Mattarella questo è il gruppo del movimento liberazione italiana nei giardini del Quirinale al centro Antonio Pappalardo e Caterina di Malta andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico la cronaca con il colpo grosso al banco Matt targhe rubate per la fuga targhe delle auto la notte della vigilia di Natale segnalata dalle telecamere un'auto sospetta e poi vedete questa fotografia guardatela è l'ambulanza questa è l'ambulanza che ve la cerco con questo qui un po' più piccolo così se no copro le foto vedete non passa l'ambulanza non passa ed è costretta a fare che cosa marcia indietro disagio nella zona traffico limitato del centro storico affano in via Gasparoli per le auto lasciate in sosta l'ambulanza questo è il titolo non passa e deve fare retromarcia e quindi sapete che quando c'è l'ambulanza è bene che faccia il più presto possibile perché quando interviene ogni secondo è prezioso e dunque bisognerebbe pensare quando si parcheggia anche a questa eventualità siamo sulla pagina di Senigallia concessionari e fantasma di supercar scattano gli arresti frezza in carcere i fratelli Maurizio e Vinnacco condannati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa indagini che sono partite nel 2004 poi Capriolo trovato squartato vicino al cimitero a Montigiano anche un blitz tra le tombe nella notte di Natale davvero non si sa più dove stiamo andando nella notte qualcuno si è introdotto nel cimitero della frazione dove il cancello è stato trovato spalancato qualcosa è stato trovato fuori posto ma non è stato rubato nulla chi si è introdotto ha voluto in qualche modo farlo sapere perché ha spalancato il cancello lasciandolo così senza però richiuderlo fallisce il colpo e siamo sempre sulla pagina di Senigallia a Castelleone di Suasa fallisce il colpo in villa a Castelleone in seguimento con fuga per i campi i banditi abbandonano l'auto e scappano a piedi il sindaco lancia l'allarme su Facebook e poi un messaggio per i ladri guardatelo lo scrive qua questo signore sul cartello per i ladri la macchinetta del caffè non c'è più come dire non c'è più niente da rubare è inutile che provate persino ad entrare e poi sotto scontro sull'Arceviese in tre al pronto soccorso un incidente tra due auto all'incrocio con la strada della chiusa al vallone le casette le casette andiamo adesso andiamo a salutare anche tutte le persone che ci seguono dalle zone terremotate non l'abbiamo fatto la mattina di Natale chiedo scusa ma l'abbiamo inserito insieme a tutte le persone chiaramente un po' disagiate le abbiamo ricordate e il disagio è notevole perché quando non si ha più la casa dove poter stare insomma il disagio è enorme e qui c'è la rivolta questa mattina raccontata sul Corriere dei sindaci che hanno ricevuto sì le casette però dicono fanno schifo io come faccio a consegnarle ai miei concittadini ecco come vengono consegnate ai sindaci le casette per i terremotati il sindaco di Sarnano Cereggioli mostra i pezzi ancora che non sono montati guardate qui c'è addirittura un controsoffitto con tutto rotto con l'acqua le infiltrazioni d'acqua che hanno spaccato e hanno rotto il controsoffitto sotto appunto il sindaco con questo pezzo in mano queste ecco le casette così come vengono consegnate ai sindaci insomma Visso e Sarnano i video della vergogna incomplete e sporche tenetevele a Caldarola oggi la consegna di 26 i politici non sono stati invitati e farebbero bene a restare là dove sono e a non farsi vedere poi dedicato a Matteo invece qui andiamo a Pesaro perché c'è stato nei giorni scorsi il funerale del quindicenne che è morto in uno scontro con lo scooter contro un'auto dedicato a Matteo un luogo del cuore sarà lo spazio pulsante di Cattabrighe il dono della famiglia tutte le offerte raccolte alle esequie destinate al progetto per ricordare appunto Matteo Ghiselli che nel giorno della vigilia di Natale quando ormai si è pronti con gioia a celebrare la nascita di Gesù il dolore ha toccato il cuore di oltre 2000 persone un'intera comunità che ha pianto e continua a piangere per la morte di questo ragazzino che ora non c'è più e sapete giocava nella vis nella vispesa nei giovani gli allievi giocheranno senza la sua maglia la maglia numero 3 il 15 anni aveva il ruolo di terzino sinistro un talento innato andiamo adesso invece velocemente sulle altre pagine del Corriere è svelata la notte di San Silvestro in piazza del popolo a Pesaro si balla con gli anni 80 saranno tre le bende che si alterneranno sul palco il gran finale con Gio Castellani e poi ancora dal Corriere andiamo sull'altra pagina in centinaia sotto l'albero con Fido il cane ogni cane festeggiato ha una sua storia successo per l'appuntamento che Ettore Florio organizza ormai da 27 anni ancora dal Corriere un masso si stacca dall'ardizio subito attivata una task force momenti di paura nella tarda mattinata sulla Adriatica all'altezza di Santa Marta e poi una donna siamo ad Acqualagna una densa nube di fumo mi ha avvolta mi sono sentita male mentre guidavo un incendio all'essicatoio la testimonianza di una donna che ha dovuto essere soccorsa dal 118 il sindaco di Acqualagna dice ora chiederemo provvedimenti andiamo ancora avanti la cronaca fa footing footing a Natale un ex arbitro di 52 anni stroncato da un malore soccorsi inutili lavorava da Ocean a Fano il cordoglio dell'associazione italiana arbitra eccolo qua ecco la vittima Gianluca Valeri che se n'è andato a 52 anni nel modo più inaccettabile stroncato da un infarto scrive il giornale mentre in tute scarpe da ginnastica faceva jogging il giorno di Natale prima di mettersi a tavola con i fratelli e i parenti la pagina di Urbino la politica il partito democratico ha appoggiato il sindaco Gambini la maggioranza ora è cambiata sapete Gambini a destra il PD sta certamente a sinistra almeno così meno che non è cambiato qualcosa la maggioranza ora è cambiata Cut e Urbino al centro attaccano sulla fusione svendute le quote di Megasnet Francesca Maria Crespini in questa fotografia leader della lista Cut libera tutti Crespini e Ciampi rinfacciano al sindaco di aver sprecato fondi nell'ex sede acquistata e poi sotto la notizia che torna il calendario degli appicchiesi doc al secondo anno l'iniziativa di Dan Franco Forluci per l'albero delle storie apriamo il resto del Carlino il resto del Carlino questa mattina apre con la notizia degli sposi infedeli che cos'è chi sono questi sposi infedeli andiamo a leggere donna marocchina vuole unirsi ad un pesarese ma il consolato del suo paese il Marocco non le dà il permesso perché cosa dice prima devi dimostrarci che il tuo futuro marito cioè il pesarese quindi si dà per scontato che sia cristiano cattolico si sia convertito alla religione musulmana lei fa ricorso al nostro tribunale civile e poi vince allora poi vedremo un attimo che sono due pagine vedremo un attimo un po' nel dettaglio la tragedia del calciatore quindicenne sempre in primo piano morto lungo la statale l'auto che ha investito Matteo non ha frenato dopo l'impatto la municipale ha ricostruito la dinamica lo scooter agganciato e trascinato oltre 2.000 persone nella parrocchia a Cattabrighe per l'addio al ragazzo poi anche qui la notizia dell'uomo 52enne stroncato da un infarto mentre faceva giochi mentre correva che ha perso la vita e poi l'altra notizia sempre di cronaca furti in centro e a babucce sempre a Pesaro una tale uno spasso per i ladri razzia nelle case e anche nei circoli sventrata una cassaforte era tutto l'oro dei miei genitori racconta adesso sconsolato andiamo a vedere allora questa pagina ne leggiamo soltanto una non tutte e due per sposarmi con un pesarese dovevo convertirlo all'islam una marocchina lotta contro il suo consolato e alla fine vince la giovane ha fatto ricorso al tribunale ottenendo il nulla osta per il matrimonio civile infatti l'obbligo secondo la legge del Marocco è che le donne devono maritarsi anche all'estero solo con persone di fede religiosa musulmana la richiedente essendosi rifiutata di convertire lo sposo si è vista negare dal consolato il certificato necessario sotto che cosa dice la chiesa cattolica la chiesa sconsiglia ecco qua i cattolici non vedono bene le unioni miste anche per la chiesa cattolica i matrimoni misti non sono mai accolti a braccia aperte le differenze culturali e religiose hanno indotto i vescovi italiani a firmare un documento nel 2005 che impone ai sacerdoti di sconsigliare o comunque non incoraggiare queste unioni andiamo sull'altra pagina quella di Fano perché anche qui in primo piano vedete c'è la notizia della morte di Gianluca Valeri 52 anni che si è accasciato la mattina di Natale ad Ancona dove era tornato per trascorrere le feste in famiglia e il ricordo di Barbara Brunori che dice di Valeri del suo ex collega era il punto di riferimento dell'Ocean e lo ricorda così poi oggi c'è l'ispezione tra lunedì e ieri non è stato possibile svolgere alcun esame l'ispezione dovrebbe avvenire oggi e solo allora per i familiari sarà possibile fissare la data per il funerale i DEORS cioè gli arredamenti nei negozi dei locali pubblici quelli che si affacciano in piazza 20 settembre nel centro storico non c'è pace si riaccende lo scontro gli esercenti dicono il comune di Fano latita e quindi ci obbliga a far ricorso al TAR sui consigli di quartiere invece Caporelli li difende iniziativa vincente dopo le polemiche l'opposizione ha parlato di mossa scorretta per prendere i voti cioè ripristinare un po' quelle che erano a Fano le vecchie circoscrizioni che erano poi che sono state poi soppresse e quindi adesso si ripropongono con un altro nome ma più o meno la funzione è quella ladri nella notte siamo a Fossombrone nella sede della municipale provano a scassinare l'armadio con le pistole addirittura per la comandante è un caso strano il sindaco però è allarmato l'armadio chiaramente è blindato le armi sono molto ben custodite i malviventi quindi alla fine non hanno rubato nulla qui vedete il sindaco Bonci che appunto si è detto preoccupato per questa cosa e lo credo bene a Cagli invece turisti per vedere la natività la tradizione si rinnova è tanto l'impegno per allestirli il presepe vivente emoziona e commuove anche a Piobbico dove si è ripetuta come tradizione la rievocazione del presepe vivente andiamo nelle ultime pagine della nostra rassegna stampa questa è la vigilia terribile raccontata da Luigi Paolini titolare dell'EDIL PF un pesarese originario di Muraglia ma residente dei diversi anni in strada Croce a Babuce che il 24 scorso quindi la vigilia di Natale tra le 6 del pomeriggio e le 9 è stato visitato la sua casa è stata visitata dai gnoti sono entrati dentro hanno messo a soccuadro la camera sventrandogli la cassaforte all'interno della quale aveva molti ori ecco come l'ha ritrovata chiaramente insomma non è stato per lui un bel Natale sicuramente non lo è stato poi da Urbino invece Moretti in Graticola questa è la pagina di Urbino al centro e CUT sono due liste CUT e Liberi Tutti chiedono al sindaco di chiarire quale sia stato il ruolo del segretario dell'assessore Sgarbi nello spettacolo con Mogol e poi e poi sotto anzi qua di spalla quanti dettagli nel presepe fatto di Sassi a Schieti questo è l'altro pezzo che troverete sulla pagina di Urbino del resto del carino di questa mattina ok allora la nostra rassegna stampa si chiude qui grazie per averci seguito noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia allora andiamo sulla centrale per salutarvi e ricordarvi che la rassegna stampa torna domani mattina come sempre alle 7 e 30 e che per le vostre segnalazioni c'è il nostro numero telefonico 338 4968 250 attraverso il quale con whatsapp potrete raggiungere la nostra redazione parlare con noi e inviarci i vostri messaggi le vostre segnalazioni le vostre foto o video grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti